Eccoci qui. Come ti ho anticipato nella mia pagina Facebook, in questo momento epocale il coronavirus da un lato ci fa paura, ma dall'altro ci carica di una voglia di ripartire, di rinascere e di rimetterci in moto con le nostre migliori energie. Ho pensato a te che sei titolare di un locale commerciale, di un ristorante o di un bar. Sì, perché quando tutto questo sarà finito, come vorrai ripartire? Come prima? Basta? O meglio di prima? In questi giorni stai riflettendo su tanti aspetti della tua attività e stai avendo anche il tempo di ragionare su come migliorare e come performare meglio di prima, visto che il dopo che ci aspetta sarà un nuovo inizio per tutti. Ecco dunque che voglio offrirti qualcosa di molto interessante, una consulenza di stile sul tuo locale. Sì, perché partendo dal migliorare l'immagine del tuo locale e focalizzando l'attenzione sui suoi punti di forza, posso costruire un'anteprima vincente per te. Di cosa ho bisogno e cosa ti chiedo? Innanzitutto un confronto via Skype per comprendere la tua situazione, il tuo stato di fatto, le tue specifiche esigenze. Poi una planimetria del locale da valorizzare. Alcune foto indispensabili per avere l'idea dello stato dei fatti e possibilmente perché no anche un breve video girato all'interno del locale stesso. Qualche misura ma all'occorrenza. A questo punto una volta capite io le tue esigenze e tu compreso gli step che affronteremo insieme, studierò personalmente il tuo caso e ti fornirò una vera e propria anteprima in tempi rapidi della soluzione che ho pensato per te. È indispensabile che tu abbia delle persone che possono fornirti un aiuto. Creerò per te una vera e propria guida sul da farsi. Ti scriverò per filo e per segno tutto ciò che dovrai fare in modo che sarà più semplice per la squadra metterlo in pratica. Ti elenco un po' di vantaggi. Puoi decidere tu quando partire con i lavori perché avrai in mano ciò che ti serve per spiegare alla squadra cosa fare. Puoi scegliere tu la tua squadra di lavoro e perché no riservarti anche una parte per te. Puoi risparmiare perché pagherai soltanto la consulenza di stile e non dovrai sostenere i costi di una direzione lavori. Allora cosa aspetti? Chiamami subito o scrivimi sulla mia mail. Ciao e a presto! Ciao!